Salve a tutti ragazzi, ultimo video per stasera, vi faccio un secondo vedere questo articolo che ho letto di Boris Sheiko quindi con questo articolo, con questo video spero di concludere il capitolo traiettoria nella panca e magari vi do qualche idea, insomma qualche spunto per poter migliorare nella panca stessa bene, allora guardiamo un po', cos'è stato fatto? Niente, sono state tracciate le traiettorie dal punto di vista laterale dell'atleta le fasi della panca sono state divise in 7, quindi la fase anteriore all'alzata, la fase di lockout quando stiamo così con le braccia completamente stese, le scapole addotte, fase 3 quando si scende, fase 4 è la pausa fase 5 è quando il giudice di gara ci dà il via, si fa la fase di ascesa, quindi la fase 6 la fase 7 è la fase in cui dal lockout, quindi siamo al punto stesso di partenza da quel punto là si va a rimettere bilanciere sui fermi, insomma, va bene, queste sono le fasi che sono state tracciate vi faccio vedere in secondo diversi atleti, vi dico subito che la la traiettoria diciamo più più consona sarebbe una traiettoria di questo tipo nonostante questo mi sembra che sia un po' troppo lontano dalla verticale, quindi magari l'atleta qua ha colpito verso la pancia e non verso lo sterno però andiamo a vedere, ecco, qua è diverso, andiamo a vedere un secondo gli atleti veramente bravi, questo ve lo salto qua su due piedi, ecco qua ci sono primo prima alzata 170 kg, seconda alzata 190 kg guardate che bellezza ragazzi eh? allora, punto A si scende, punto B pausa, si torna al punto A idem con questa alzata punto A si scende punto B e si torna su guardate come queste traiettorie siano sovrapponibili eh? guardate che bellezza questi sono atleti veramente, veramente avanzati che sanno il fatto loro allora andiamo a vedere qui lo chiama vertical displacement quindi come è stato sviluppato a livello verticale durante il tempo si parte da lockout si scende si fa la pausa e qua si torna al punto di partenza guardate il tempo usato un secondo eh? lo stesso per 190 kg quindi si parte da lockout si scende si fa la pausa un secondo e si sale qua l'atleta ha avuto un non so un mezzo secondo neanche di di sticking point e poi è risalito guardate bene la velocità che è stata tracciata anche essa quindi si parte scendendo questo è il punto questo è il punto in cui si fa il fermo e dopo il fermo la velocità parte al massimo e poi si rimette il bilanciere nei fermi laterali uguale qua si scende si fa il fermo al petto sui 6 secondi eccolo qua si sale velocità massima questo è il punto in cui l'atleta ha avuto un attimo di incertezza e poi subito è tornato a una buonissima ottima velocità 190 kg eh ragazzi sono noccioline guardiamo questa atleta che si chiama casciuba traiettorie in pratica sovrapposte sovrapponibili null'altra 200 kg l'una e 220 l'altra che roba bellissime bellissime soprattutto se mi chiedete a me i 220 sono ancora migliori che 200 guardate ha preso lo sterno sicuramente traiettoria in pratica sovrapposta al massimo ed è tornato esattamente nella verticale bravo niente leggiamo questo traiettoria qua anche qua si parte dal fermo scusate si parte da da lockout si scende fermo un secondo velocità massima e si torna al punto di partenza guardate che velocità con 200 kg e con 220 kg ragazzi ancora ancora meglio in pratica questo è un atleta di elite questo è un atleta veramente bello dopo me lo vado a vedere casciuba si chiama anche qua si parla di velocità niente si parte si parte si fa il fermo al petto fino qua qui siamo sempre qui siamo in discesa siamo fermi si parte velocità massima velocità che si arriva qua in pratica la velocità ai 10 cm dal petto dai 10 cm in poi la velocità diminuisce e si torna al punto di partenza lo stesso qua si parte dal lockout pausa al petto velocità massima nella velocità massima si parla comunque di quei 10 cm dal petto 12 cm e da qua la velocità diminuisce e si torna al lockout allora conclusioni conclusioni generali come potete vedere la traiettoria non è mai perpendicolare bensì diagonale perché ovviamente se fosse questa la faccio vedere la traiettoria che è meglio dato che la traiettoria ecco dato che la perpendicolare sarebbe in pratica ridosso della sua gola sarebbe un effetto ghigliottina non andrebbe bene e la cosa molto interessante che nonostante nonostante ci siano atleti che in pratica abbiano una traiettoria diciamo perfetta chiamiamola perfetta guardate qua che bellezza nonostante questo anche il loro lockout e questo devo impararlo anche io ragazzi il loro lockout il punto scusate non lockout il punto sticking point non è al petto bensì 10 cm dal petto quindi come avviare a questa cosa nella programmazione niente dobbiamo utilizzare all board quindi tavole al petto di una dimensione giusta in modo che si vada proprio a colpire lo sticking point si può fare il lavoro isometrico si può fare il lavoro isocinetrico si possono usare catene si possono usare elastici si può andare a colpire esattamente quel punto che riteniamo più difficile 10 cm dal petto scusate più o meno 10 cm dal petto ne parla spesso anche adugruzza questo lavoro che dovremmo fare tutti periodicamente va bene? con questo video spero di concludere e veramente di chiudere il capitolo traiettoria panca questo è un articolo scritto da Sheiko da Boris Sheiko quindi il coach della nazionale russa non è certamente l'ultimo arrivato se avete domande o commenti eccetera eccetera scriveteli qua sotto e se ne parla va bene? ciao ragazzi ciao ciao ciao